Nell'atteggiamento non deve cambiare niente, deve essere sempre lo stesso contro ogni squadra e contro avversari forti come il Palermo. L'atteggiamento deve essere alla base della nostra prestazione. Il Palermo è una squadra importante, ben allenata, che avrà anche il dente avvelenato per la sconfitta col Novara. Bisognerà tenerli sotto pressione per limitare i loro pregi, hanno giocatori importanti, che possono cambiare la partita in ogni momento, e bisognerà tagliare loro i rifornimenti. L'obiettivo di questi due giorni dopo Vercelli era reintegrare energie fisiche e mentali per affrontare questa partita. Insieme allo staff, stiamo valutando ogni aspetto. La gara sul sintentico, può essere più difficile da recuperare in termini muscolari. Pasciuti, Mbaie e Giorico tornano a disposizione, Mbekogu è Convocato ma deve essere valutato.